Musica Andiamo in redazione con Roberto Vigiani per lo spazio informativo di oggi. Sì, buongiorno. In apertura torniamo ad occuparci ancora dell'alluvione del Metapontino. Ieri l'incontro di una delegazione del Comitato Terre Ioniche a Roma con i parlamentari Lucani e Pugliesi. Oggi ha annunciato una nuova manifestazione di protesta a Serra Marina di Bernalda. Ma per saperne di più noi ci colleghiamo in diretta con Luigi Di Lauro che si trova sul posto. Luigi, a te. Sì, buongiorno anche da Serra Marina di Metaponto. Come vedete qui ci sono già lavori in corso, possiamo dire, perché si sta preparando la manifestazione in programma alle 9.30 di questa mattina. Già tanti mezzi agricoli che sono arrivati qui. Una assemblea convocata dal Comitato Difendiamo le Terre Ioniche dopo gli incontri di ieri con i parlamentari Lucani e Pugliesi per sollecitare l'emissione dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri per quanto riguarda la dichiarazione dello Stato di calamità. Il Comitato Difendiamo le Terre Ioniche dice che non siamo più disponibili, come nel 2011, ad attendere dieci mesi per vedere risolti i problemi di questo territorio, per vedere riconosciute il giusto risarcimento alle tante aziende che operano in questo territorio e soprattutto per vedere avviare i lavori di messa in sicurezza di un territorio nuovamente colpito dall'alluvione del 7 ottobre scorso che al confine tra Puglia e Basilicata si è portato via anche quattro giovani vite umane. Dunque appuntamento fissato alle 9.30 con l'inizio dell'assemblea e poi con un lento corteo sulla provinciale 175 che collega Metaponto a Bernalda. Intanto ieri dopo la riunione del Comitato Operativo Misto è stato istituito dalla Prefettura di Matera la notizia che al momento non risulterebbero problemi per quanto riguarda la pubblica incolumità, non vengono segnalati problemi per la pubblica incolumità. Noi intanto ci vediamo più tardi per continuare a parlare di questa importante manifestazione. A te la linea. Grazie a Luigi Di Lauro. E già qui pronta accanto a me Tiziana Magno per la traduzione nel linguaggio dei segni delle notizie del nostro Tg affidate a Roberto Vigiani. Buongiorno dal Tg Liss. L'alluvione del Metapontino, oggi nuova iniziativa di protesta del Comitato Terre Ioniche che si è dato appuntamento a Serra Marina di Bernalda. Ieri intanto una delegazione del Comitato ha incontrato a Roma alcuni parlamentari, pugliesi e lucani. Ha chiesto di accelerare i tempi per la nomina di un commissario che ha certi e quantifichi i danni. E sul maltempo torneremo a collegarci più avanti nel corso del nostro programma. Allora andiamo a Metaponto nelle zone alluvionate con Luigi Di Lauro dove è forte la protesta degli agricoltori. Andiamo in diretta. Luigi a te la linea. Sì, agricoltori che continuano a riunirsi qui a Serra Marina di Metaponto per la manifestazione che è in programma a partire dalle 9.30 per chiedere interventi immediati dopo l'alluvione del 7 ottobre. Non c'è più disponibilità ad aspettare mesi e mesi per vedere i riconosciuti gli stanziamenti a favore soprattutto di un territorio che ormai è assolutamente al limite. Con noi ci sono appunto alcuni di questi rappresentanti del mondo agricolo. Lei signora ha un'azienda a pochi chilometri da qui. Una situazione, un territorio che ormai è davvero martoriato. Infatti è tanto martoriato e noi abbiamo ancora gli argini dei fiumi. Cioè il fiume entra come niente nei nostri terreni perché basta una piccola pioggia perché non sono stati riparati dall'altra alluvione. Adesso si è ulteriormente aggravata la situazione. Noi siamo in ginocchio e vorremmo che qualcuno ci pensasse visto che non abbiamo ascolto da nessuno. E' un problema soprattutto di sicurezza perché questa volta ci sono stati quattro morti e per quello che è lo stato di questo territorio un'altra pioggia così violenta come quella del 7 ottobre potrebbe provocarne molte di più di vittime. Penso che anche meno violenta potrebbe provocare molte più vittime. Ci sono disastri annunciati. Il secondo argine del Bradano ormai è stato superato ed eroso. Ginosa Marina ma anche altre comunità corrono gravi rischi. i canali sono abbandonati a se stessi. Se lei vede gli agrumeti della Marina sono pieni di sterpaglia, faranno tappo. E quindi il territorio ormai è devastato. Se non si provvede e provvedevano bene i greci non capisco perché non riusciamo noi a provvedere con le ruspe. il territorio è abbandonato. Abbandonato. Se si allarga a macchia d'olio la necessità di interventi e cure stavolta non solo straordinari ma ordinari. Cure ordinari per un territorio che è in ginocchio e lo sono soprattutto i tanti raccolti di stagione che purtroppo alcuni rimangono sulle piante a marcire e altri sono andati completamente distrutti. Infatti tanti ortaggi, carciofetti, coltivazioni di cavoli che erano nel pieno dello sviluppo si sono marciti e non solo ma anche tutte le uve che stavano ancora sui ceppi stanno marcendo perché non si possono neanche raccogliere e visto poi l'umidità che continua a esserci in questi giorni. Alle 9.30 dunque questa grande assemblea convocata dal Comitato Difendiamo le Terre Ioniche che ieri ha avuto incontri romani con rappresentanti dei parlamentari avete chiesto anche un incontro con il Ministro dell'Agricoltura di Girolamo che oggi è in Basilicata. Sì, noi chiediamo non solo un incontro al Governo chiediamo che il Governo si renda conto di una situazione che non può essere semplicemente rimanere sulla carta o rimanere non affrontata per quello che è. Gravissima la situazione, il Ministro dell'Agricoltura deve sapere che le aziende di questo territorio sono davvero in ginocchio e che ci sono nuovi sciacalli in questo momento nelle campagne noi è da tempo che denunciamo gli usurai al lavoro non ci sono più solo quelli anzi ci sono sempre meno perché gli usurai intervengono quando hanno la previsione di recuperare qualcosa ormai è una situazione drammatica e le aziende sono ridotte allo stremo ma c'è un trust incredibile sul ritiro dei prodotti che rimangono sulla pianta i commercianti cercano di approfittarne è il momento di intervenire è il momento di intervenire appuntamento dunque fissato per le 9.30 di questa mattina noi seguiremo questa lunga giornata di protesta anche nel corso del nostro telegiornale delle 14 per il momento da Serra Marina è tutto vi restituiamo la linea Grazie per la visione! Grazie mille! Vediamo! Grazie a tutti